Pochi ma buoni, Bull Mail, Blue Jeans B che è il netto favorito, Bordeaux Allais, Bambu Lux che fa scuderia con Bull Mail, Bacoli WF e Babilona Jack, mezzo meccanico in movimento. Doppio chilometro per buoni tre anni, sei agli ordini dello starter. Si completa la piegata e anche l'allineamento, avvia la macchina in velocità. Galoppa all'argo di tutti la Babilonia e ne approfitta Bambu Lux che scavalca gli avversari, soprattutto Bull Mail con all'argo Blue Jeans B che punterà forse in avanti. E siamo sulla piegata con l'allievo di Vincenzo Ad Alessandro al comando, Roberto Vecchione preferisce ripiegare. Si completa il lancio in 14,6 e così la fila indiana affronta il rettilineo di fronte, la tabellone e la Babilonia. Quindi ne rimangono in 5, 5, al completamento del quarto iniziale in 31. Ora gradua il leader, la Bambu Lux, questa figlia di Mara già. 46 e mezzo, i 600, sposta Bull Mail che fa scuderia con Bambu Lux e si trascina Blue Jeans B. Completamento del mezzo miglio iniziale, freeway stra classico per Bull Mail, uno o due un po' di spiccioli e ora rimane in asino al vento il Blue Jeans. In terza posizione, lungo io, Ibirilli e Bordeaux Aires. Primo chilometro in 16,8 sul mio e i Cavalià affrontano la penultima curva con Blue Jeans che inizia a pedalare e va deciso su Bull Mail che replica. Mezzo miglio alla conclusione, un 15 spaccato impiegata e il varennesimo di vecchione è a mezza figura dell'Int, del leader che deve riallungare. La frazione di fronte se ne va in 14,5, quindi 29,5, 400 di fronte che consente a Bull Mail di rimanere sempre in mezza figura davanti. Non demorde Blue Jeans, due minuti spaccato il miglio, torna alla carica il varenne di Roberto Vecchione, si difende bene il mago d'amore del francesino. Retta d'arrivo con Bull Mail attaccato da Blue Jeans, insiste Blue Jeans, riparte Bull Mail, sono tutti e due un po' fermi, ma Vecchione insiste. I cavalli sono in zona traguardo, lotta incerta, Blue 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 Jeans, B piega, uno stoico, Bull Mail. 2,31, 1,15,4, vittoria di forza, hanno fatto l'arrivo un po' col fiatone ambe due, ma chi l'ha spuntata? E' ormai questo Roberto Vecchione che sta macinando vittoria su vittoria. Blue Jeans, un ennesimo varenne, ma esce alla grande anche il mago d'amore del francesino, e cioè Mario Minopoli Junior. 1,37 al totalizzatore, pochina la quota, eh? Per come ha vinto. 1,37 al totalizzatore, pochina la quota, eh?